Lo diceva Giuseppe Goebbels e lo applicano tranquillamente le agenzie di marketing oggi in tutto il mondo, lo diceva il ministro della propaganda tedesco sotto il nazismo e lo applicano le aziende di marketing oggi. Ci vogliono fondamentalmente tre cose per fare un buon affare e per ottenere un buon suddito. Ci vuole un comunicatore che comunichi sempre la stessa cosa, una massa di coglioni in grado di ascoltarla e la ripetizione di queste cose, un comunicatore che riesca a ripetere le cose, una massa di coglioni e un comunicatore che ripeta le cose. Questo è quello che fanno le agenzie di marketing e il risultato finale è che persone come quelle lì vengono accettate non solo come persone che sviluppano un obiettivo a cui arrivare, ma anche persone da cui ascoltare, come dire, un intento moralizzatore. E questa è la realtà, cioè è vero che mediamente gli esseri umani sono pini e zucche, però è anche vero che vengono resi e sono stati resi pini e zucche, quindi non credo che il problema sia semplicemente che chi li mette lì, non è che sono stati messi lì dal piacere della gente, cioè a chi è che potrebbe piacere un illetterato cerebroleso e una cretina che taglia due vestiti e vende dei pandori con la finta beneficenza. Viene preparata la gente per questo tipo di aspetto e poi gli viene dato in pasto questa carne di poca qualità, come quegli hamburgerazzi schifosi. Ecco, questa è la mia posizione, lo è sempre stata in funzione di quello che ho letto, sentito, studiato, immaginato, sentito sulla mia pelle dentro e questa è la mia sensazione.